Benvenuti al nuovo episodio del podcast di Fasi, l'appuntamento settimanale dedicato ai bandi e alle opportunità di finanziamento per lo sviluppo di imprese e enti e associazioni. Dai finanziamenti per i giovani agricoltori ai contributi per la sicurezza sul lavoro, questa settimana abbiamo raccolto un ventaglio di opportunità a disposizione di soggetti pubblici e privati operativi in diversi settori. C'è tempo fino al 28 marzo per partecipare alla decima edizione dell'EIT Digital Challenge, la principale competizione paneuropea per le scale-up digitali Deep Tech. Nel dettaglio la competizione è rivolta alle scale-up digitali in rapida crescita che intendono sviluppare un prodotto o un servizio innovativo in una delle cinque aree ammissibili, ovvero Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Tech, Digital Finance. Per partecipare alla call queste realtà innovative devono rispettare tre requisiti fondamentali. Il primo è avere un'esperienza al massimo di dieci anni, mentre il secondo è l'essere costituite in uno dei 27 stati membri dell'UE o nei paesi associati al programma Horizon Europe. Ultimo requisito, infine, è quello di aver registrato nel 2022 ricavi per un minimo di 300.000 euro o un finanziamento complessivo di minimo 2 milioni di euro. I finalisti individuati al termine del primo round di selezioni saranno invitati a presentare il proprio progetto nell'ambito della conferenza 8 Grow Digital 2023, in programma a giugno a Bruxelles. Durante l'evento saranno annunciati i vincitori che potranno partecipare al programma di accelerazione accedendo a servizi specifici del valore di 50.000 euro per lo sviluppo del proprio business. Restando nel quadro delle opportunità attive a livello europeo, è aperto il bando Health Equity di Era4Health, la partnership europea cofinanziata dall'Europa che mette insieme 32 organizzazioni provenienti da 21 paesi a cui partecipa anche l'Italia. L'obiettivo della call è quello di sostenere i progetti di ricerca transnazionali che mirino a supportare nuove strategie per l'identificazione e la modifica di certi meccanismi di comportamento alimentare e attività fisiche. Le proposte progettuali devono essere presentate da un consorzio composto da almeno 3 e massimo 5 partner provenienti da minimo 3 differenti paesi. Il budget complessivo della call ammonta 14,2 milioni di euro, di cui 1,7 milioni stanziati dall'Italia. I partner dei consorsi che saranno selezionati, infatti, verranno finanziati dalle rispettive organizzazioni finanziatrici, che per il nostro paese sono i ministeri della ricerca e della salute. Si tratta di una precisazione rilevante, visto che con i 700.000 euro del ministero della salute potranno essere finanziati solo gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mentre con il milione del MUR saranno invece sostenute le imprese, le università e i centri di ricerca. La deadline per l'invio delle proposte progettuali è fissata per il 14 marzo 2023. Restringendo il raggio d'azione alle novità su scala nazionale è aperto lo sportello di Generazione Terra, il nuovo strumento fondiario per il ricambio generazionale in agricoltura targato ISMEA. Grazie a Generazione Terra saranno concessi finanziamenti fino al 100% delle spese per l'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori già attivi, giovani start-upper con titolo di studio in campo agrario o under 41 con esperienza nel settore, che desiderano avviare per la prima volta una propria impresa. Non esiste un limite minimo di intervento per facilitare l'operatività della misura anche in aree più remote e a rischio di abbandono, mentre i massimali di aiuto variano a seconda della tipologia di soggetto, da un minimo di 500.000 euro fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. A livello operativo il meccanismo è strutturato come una vendita con patto di riservato dominio. Il giovane sceglie il terreno, ISMEA lo acquista dal venditore e lo rivende al giovane, che ne dispone immediatamente e ne rimborsa ratealmente il prezzo. Il finanziamento fino a 30 anni, di cui al massimo 2 di preammortamento, prevede un tasso di interesse che può essere fisso o variabile a scelta dei giovani ed è ancorato ai valori di mercato e collegato al profilo di rischio del richiedente. Per i giovani start-upper, sia con titolo che con esperienza, c'è anche la possibilità di ottenere un premio di primo insediamento, fino a 70.000 euro, erogato come contributo in conto capitale, che può essere utilizzato per il 60% per abbattere le rate e per il restante 40% ad esito della verifica della realizzazione del piano aziendale e ripartito sulle restanti rate di ammortamento. L'apertura dello sportello si avvale di risorse per 60 milioni, di cui 25 milioni per il centro nord, 25 milioni per sud e isole e 10 milioni solo per i giovani start-upper con titolo sull'intero territorio nazionale. Chiudiamo la rassegna di questa settimana parlando del nuovo bando Easy Inail 2022. Con un budget di 333 milioni di euro, le imprese e gli enti del terzo settore potranno accedere ai contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione delle domande saranno pubblicate nella sezione dedicata al bando Easy 2022 sul sito web dell'Inail entro il 21 febbraio 2023. Per questa settimana ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo episodio per nuovi aggiornamenti sugli incentivi disponibili in arrivo. Visitate il sito fasi.eu se volete scoprire più informazioni sulle opportunità di finanziamento di questa settimana.